Dopo l'ennesimo caso di suicidio nel carcere di Castrogno, il comune di Teramo chiede a gran voce l'intervento del ministro della giustizia Carlo Nordio e il terzo appello in un anno che il primo cittadino, Gian Guido D'Alberto, fa al ministro dopo quelli di febbraio ed ottobre 2023. Nei due casi precedenti veniva evidenziata una difficoltà sempre crescente nel garantire livelli minimi di sicurezza all'interno del penitenziario Teramano. Tante le criticità denunciate, dalla carenza di organico al sovraffollamento dei detenuti, necessaria, secondo gli amministratori, una ridistribuzione in altri istituti. Una situazione che peggiora progressivamente e anche e soprattutto per l'assenza di interventi da parte del ministero, del governo, che richiediamo ormai da tempo, lo chiediamo come istituzioni tutte all'interno del territorio, proprio per dare una risposta ormai improcrastinabile, sempre più necessaria ed urgente, affinché tutta la comunità penitenziaria possa superare questa fase di criticità. I diritti dei detenuti, i diritti degli agenti di polizia penitenziaria che da tempo, attraverso anche i sindacati, chiedono interventi immediati. Per la terza volta, come ricordava lei, ci siamo rivolti al ministro, finora le istanze sono state praticamente inascoltate, tenuto conto anche del fatto che le visite che abbiamo ricevuto durante i periodi delle campagne elettorali in realtà non hanno prodotto nulla che consentisse oggi di vivere una situazione diversa. Pretendiamolo, pretende la comunità teramana, non solo la comunità penitenziaria, che dialoga con la comunità cittadina, ma tutto il sistema istituzionale, un intervento immediato da parte del ministro, non siamo più disposti ad attendere, quindi dopo questo terzo invito, questo terzo appello, ovviamente adotteremo tutte le azioni istituzionali necessarie per farci ascoltare, a tutela di tutta la comunità penitenziaria teramana. Il sovraffollamento di detenuti rispetto a quelli che sono gli spazi del carcere è una riduzione drastica del numero degli agenti che abbiamo vissuto nel corso di questi anni e su cui non c'è stata alcun tipo di risposta. Le due cose, incrociandole e anche insieme alle altre tematiche relative a tutta una serie di servizi su una comunità penitenziaria particolare, quella nostra, che mancano e che sono assenti, determinano una situazione di insostenibilità che non siamo più disposti a tollerare. Nella giornata di ieri sono arrivati i risultati dell'autopsia sul corpo di Patrick Guarnieri. Il decesso è avvenuto per asfissia di impiccamento e il corpo non presenta segni di violenza. Confermata quindi l'ipotesi del suicidio, ma si dovranno attendere 60 giorni per ottenere i risultati degli esami tossicologici. Nel frattempo la salme è stata riconsegnata alla famiglia per i funerali che si terranno alle 15.30 di oggi a Mociano Sant'Angelo, dove il giovane viveva.